Intrattenimento gratis. Beh. Che sbucano è bello. Molto bello, bravo. Spacca qualche altra roba. Stavo facendo solo così comunque. Ma cosa sta facendo? Ma non può stare su. Ma no, ma è storta sopra. Vai tranquilla, ma... Cade. Troppo faticoso. Te l'avevo detto. Grazie, finalmente posso bere, grazie. Ma no, ma non fare questa cosa. Ma perché devi fare questa cosa, Frank? Non voglio vedere, non voglio vedere. Che got talent. Ma guarda, ma guarda. Io non voglio guardare. Mamma mia. Non voglio sapere niente. Tu cerchi guai. Quella mela lì è storica. Allora secondo me dovremmo dare più no comunque. No, per me no. No, per me no. No, per me no. No, per me no. Grazie a tutti.